Musica Benvenuti a tutti ragazzi sono Dark Io sono Tommy E benvenuti a questo nuovo video a Radio Game Channel Oggi siamo qui con un video esclusivo Maddenner ragazzi Maddenner proprio Attacchi con Lava Hound livello 1 No ma che cazzo state Livello 2 neanche Livello 3 Maddenner ragazzi E non quelli di Shif Che ha usato un altro youtuber Tipo Fedestronzo Non voglio fare nomi Esatto Fedestronzo Comunque Oggi siamo qui con questi attacchi Sclusivi fatti da chi? Da un Champions Ovvero Matrixio76 Un nostro caro amico Per il quale Che praticamente ringraziamo Per questi attacchi Inoltre vi invitiamo anche a passare Dai suoi clan Tipo che sono organizzatissimi Sono dei mega clan Una bestia Entri e ti donano golem Maghi Esatto Molano anche Mastinlavi Anche Mastinlavi ci sono messi a donare Poi vincono loro a casa Trovate anche i loro clan In descrizione In descrizione Sono tre replay Questi qui Sui lavound E questo è un villaggio maxato Che è stato sconfitto Cioè Madonna ragazzi Questa truppa fa paura Ma andiamo a vedere come funziona Allora E' ciò che vi consigliamo Essenzialmente Questa truppa è veramente Molto molto forte Ma come il golem Che è anche lui molto forte Occupa 30 spazi E bisogna saperlo fare Esattamente Dunque il massimo di lavound Che potete fare E quattro Perché di più di quattro Praticamente vi fottete Tutti gli accampamenti E poi non potete fare più un cazzo E attaccate solo lavound Esattamente E poi non merda Perché fanno pochissimo danno Esatto Ma come In che strategia Usare questi quattro Anche due lavound Allora L'avound Sono principalmente consigliati Per la strategia Balunions Ovvero Mongolfiere E sgherri Che sono diciamo L'accoppiata vincente Per questa formazione In quanto Come ben sapete Il mastino lavico Ovvero il lavound Va a diciamo A assorbire tutti i colpi A prendersi per sé I colpi Delle difese aeree Mentre dietro Le mongolfiere Accompagnate magari Da qualche furia Ovviamente Riusciranno a fare Il lavoro sporco Di ripulire tutto il villaggio Dalle difese Esattamente E poi il bello È che non attirano Solo le difese aeree Ma anche tutte le altre difese aeree Come Infatti Vedete Un inferno Oltre che bersaglia Costantemente La lavound Senza che gli subiscano Minimamente Una grave perda Esattamente E poi quando esplodono Escono questi mille minions A loro volta Tirano le torri Che ne sono dieci Non sono mille A loro volta Insomma Essendone dieci Magari Se ne muigno due Contemporaneamente Ne sono vinti Vanno comunque Ad attirare I cinque raggi Un massimo Di cinque raggi Che possono essere Quelli delle torri Inferno Esattamente Nel castello Vi consigliamo Di avere O mongolfiere Per comunque Andare ad accrescere Il numero di mongolfiere Che ora qui Matrix ne usa 14 25 sgherri Però voi Magari nel castello Ne potete mettere Altri 6 Poi questo è ovvio Dipende anche Da che lega siete E come vi trovate Meglio ad attaccare Magari comunque Magari il livello Degli sgherri Non so Però comunque Si intende Che chi abbia Come minimo Il mastino Lavico Altri Abbia sia un maxato Del cazzo Esattamente Almeno In questo periodo Che appena Comunque ragazzi Un ultima cosa Un voto a questa truffa Io do un bel 9 Sì anch'io Ovviamente Noi siamo d'accordo Con il voto Sia io che tommi Un bel 9 Perché davvero Un golem volante Ciò che ci voleva Per rinnovare il gameplay Ed è andato a rendere Perfetta La strategia Balunz Che prima Effettivamente In lega alta Era un po' Una merda Soprattutto con i maghi All'otto Più che una merda Era un po' Diciamo Ballerino Cioè potevi vincere Ma potevi anche perdere Per varie cazzate Esattamente Dunque ragazzi Se il video vi è piaciuto Mi raccomando Lasciate un bel like E commentate Con qualsiasi cosa Diteci anche voi Magari il vostro voto Per questa truppa O comunque cosa ne pensate Come la usate Se non la usate proprio Se vi fa cagare Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto Passate in descrizione Dove troverete La nostra pagina Facebook La pagina Facebook De Nerdacci E anche il canale Del nostro grafico ufficiale Enix Design Bravissimo Che ringraziamo Di tutti i lavori che ci fa E anche i clan Di Matrixio Che ci ha fatto gli attacchi Quindi 300 like Al prossimo video Bella Bella Bella